Ma chi parla? Chi parla? Chi parla? Come chi parla? Come chi parla? Stai facendo finta di non riconoscermi. Chi parla? Chi sei? Oh Andrea, chi sono? Abbiamo fatto 18 video, solo Giuseppe. Giuseppe chi? Giuseppe Dalimatera? Stai facendo la finta, Giuseppe Simone. Giuseppe Simone. Esattamente. Vergognati cazzo, vergognati cazzo, vergognati. Senti un attimo, stai scopando come un cane, hai quattro fabbriche di troie e non me ne hai passate neanche una, non me ne hai passate. Senti Giuseppe, giuro a me non me ne frega più un cazzo, quindi dammi una busta, perché io non sono contento, se non vi faccio un, capisci? Passami una busta. Senti un attimo Andrea, tagliamo la testa al toro. Prenotami un volo, prendisi Praga, non lo so dove, in quale parte del mondo ti trovi, che vengo a trovarti e facciamo altri video. Però la canzone Monella della scordi, perché io sono arrabbiato con te, che in tutti questi anni non mi hai dato neanche una, una donna non mi hai dato. Su questo, su questo... Ci ho trovato milioni di fighe, ti ho trovato cento chili di vagina e ti sei rifiutato di fare la canzone Monella, ma ti rendi conto? No, ascolta, non mi interrompere, non usare il vecchio biccio con me. Pensavo fossi mio fratello, pensavo. No, 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 Andrea, io ti sto dicendo semplicemente, prenotami il volo, prendisi Praga che io vengo, se vuoi, naturalmente se vuoi. E allora, ascolta, ascolta, allora, ascolta, non ti credo, ascolta, 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 ascolta. Porco Dio, ascolta, Beppe, ascolta, ascolta, non ti credo, ascolta. Non ascolto un cazzo, non ascolto un cazzo. E poi facciamo il video, però io la canzone Monella non te la do perché tu in questi anni non mi hai dato neanche una donna, te ne sei scopate, hai quattro fabbriche di troie e tu non me ne hai dato neanche una donna. Adesso, spoggetto, io ti ascolto. Ok, adesso, siccome voglio vedere se sei falso o no, ti devo vedere delle palle degli occhi, quindi ti videochiamo. Porco Dio. Va bene, va bene. Ma pensa te che razza l'infame Giuseppe Simone, porco Dio. Mi vedi Giuseppe? Ciao Andrea. Ciao, ciao sto cazzo, ciao sto cazzo Giuseppe. Come stai? Giuseppe, ciao sto cazzo. Perché non hai voluto fare la canzone Monella, che i tuoi fans l'aspettavano. Ma io te lo sto dicendo chiaro perché tu in questi dodici anni, no, ci siamo conosciuti nel 2010, no, non mi hai passato, guarda te lo dico con il dito, una donna Andrea. Ma che cazzo dici a Taranto, le fighe, le fighe americane, che cazzo dici? Che una me l'hai presa a pugni nel finestrino della macchina. Giuseppe. Sì, ma quella donna, quella donna, se ti ricordi, se la memoria ce l'hai buona Andrea, stava a Torino, stava nella tua Mercedes. Sì, e poi comunque, ascolta, ti ho fatto limonare per cinque minuti con una figa incredibile a Torino. Ma che cazzo dici Giuseppe? No, 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 Andrea, non erano cinque minuti, erano tre secondi. Tu stai parlando di Laura, di Silvia Cutter. Eh certo, una figa paurosa. No, Andrea, Andrea, se vuoi io vengo a Praga dove ti trovi te, ma io la canzone Monella non te la faccio perché tu hai trombato mezzo mondo. Giuseppe, ascoltami bene, ascoltami bene, ascoltami bene. Io da quando tu ti avevo già preso l'hotel più bello di Praga con i fiori freschi, con i fiori freschi sul davanzale e tutto. Le fighe di Praga per farti fare la canzone Monella. Ti davo anche dei soldi perché non sto lì a guardare, non sto lì a guardare, eh? E ti facevo anche fare una pista, diverse piste, e tu ti sei rifiutato. A me queste cose qua, Giuseppe, non le perdono più, mi dispiace. O tu mi chiedi scusa e mi dici, Andrea Di Pre, scusami di tutto, ci chiedo perdono, umilmente perdono. Ti chiedo perdono. Dimmi perdono, va bene così. Dimmi perdono, dimmi Andrea Di Pre, perdono. Io ti chiedo, io ti chiedo quello che tu mi stai dicendo solo dopo aver scopato. Giuseppe, adesso devi fare come la canossa. Dimmi perdono, dimmi Andrea Di Pre, ti chiedo perdono. Adesso. Sto cazzo ti dico. Giuseppe, per l'ultima volta, dimmi Andrea Di Pre, ti chiedo perdono. Ammazzate, oh, a me di questo. Lo sai che Christian Ice ha rifiutato di fare il video della beatificazione dei santi? Sai cosa consisteva il video della beatificazione dei santi? Lui non te l'ha detto, per caso? Christian Ice, Christian Ice non ti ha riferito nulla? Dimmelo, 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 ma non sono contento di come ti comporti, dimmelo. Sai cosa gli ho detto? Gli ho detto Christian Ice, ogni tanto tu sai benissimo, essendo che tu da ragazzo te la facevi con la curia episcopale di Trento, ho detto me fai un video come lo sai fare tu, perché Christian Ice è bravo a fare i video di alto livello, ho detto fai, metti Papa Francesco, dove e poi metti i vari personaggi, i vari personaggi, compresa Chiara Ferragni, se ti ricordi bene, Chiara Ferragni sponsorizzava l'acqua, l'acqua della pisciata di Giuseppe Simone, compreso l'avvocato Andrea Di Pre, e i vari personaggi del mondo del trash, lui si è rifiutato. Giuseppe, ascoltami bene, Giuseppe, faceva milioni di visualizzazioni. Giuseppe, ascoltami bene una cosa, ascoltami bene per l'ultima volta, io ti do l'ultima possibilità, prima mi faccio una P, ascoltami bene, io ti chiedo per l'ultima volta, allora, se noi fossimo in un harem, se noi fossimo in un harem, capisci, in un harem, e tu potresti stare, cioè dopo il tradimento che hai fatto a me, come sultano, potresti solo stare nell'harem solo se tu diventassi un uco, cioè un castrato, capisci, nell'harem, così funzionava, ok? Io ti dico, io ti dico, io voglio fare la canzone Monella per i nostri fans, per i nostri fans. Adesso, adesso però, adesso io esigo, esigio, esigo, ti do un minuto di tempo che tu dica, basta che tu dici, Andrea di Pre, ti chiedo perdono, e basta, e poi ti riapro, e poi avrai tutta la figlia che vuoi, ti riapro tutto, ma questo lo pretendo, io non lo voglio, lo pretendo, vai. Andrea, io ho telefonato, non so se i tuoi fan di Preisti te l'hanno fatto vedere, ho telefonato al centro igiene mentale di Trento, no? Perché tu hai fatto il video dove ti hanno succhiato l'uccello al parco pubblico di Torino, no? Ho detto, guarda, c'è un caso, l'avvocato Andrea di Pre, dove io l'ho fatto succhiare l'uccello a Torino, e ho telefonato al centro igiene mentale, mi ha detto questa parentesi. E no, no, e perché hai chiamato il centro igiene? E perché li hai chiamati? Perché li hai chiamati? Volevi farmi arrestare? No, no, perché tu non mi hai, tuoi fabbriche di troie, e non me ne hai passate uno, adesso pensaci, se vuoi che venga, raga, ma prima devo scoprire... Giuseppe, questo cos'è? Ma avete visto che è infamone? Avete visto che è infamone? Io volevo regalarvi la canzone Monella e lui me l'ha impedito. Avete visto che è infamone? E quanta figa gli ho dato? Quanta figa gli ho dato? Quanta figa gli ho dato? Avete visto com'è le cose? Adesso mette giù? Avete visto? Avete visto che versi ha fatto? Avete visto? No, ho ragione io, la figa l'ha avuta, è lui che l'ha persa E se non risponde più? Aspetta che ti passo la videochiamata Giuseppe, ascolta, ascolta le mie parole da avevo fatto per l'ultima volta Ascoltami bene Giuseppe Tu hai regalato, hai regalato a tantissima gente emozioni importantissime E il tuo nome è legato a Monella Io volevo fare una canzone Monella per dare a te, ai nostri fans Un ricordo stupendo Pagando tutto io, pagandoti l'hotel più lussuoso e tutto E l'hai rifiutato Ma io sono come un re buono E ti dà la seconda possibilità, l'ultima A me basta che tu adesso dica Andrea Di Pre Perdonami E allora Giuseppe sai che succede? Che te ne devi dare a fare in culo di caro Giuseppe Simone Eh scusatemi, perché scusatemi Ho fatto bene o no? Ho fatto bene? Ho fatto bene? A me piace il cuore Mi piace il cuore Mi piace il cuore Ho fatto bene o no? Avete visto l'orgoglio? Avevo organizzato tutto Tutto fatto, tutto perfetto Tutto bene E lui non è venuto E quindi non è guarito Giuseppe Io avevo preparato tutto per te Ho speso per te 30.000 euro fra hotel, fighe, champagne, neve e altro E non sei venuto Non ti chiedo un cento di ritarcimento Voglio che tu dica Di Pre Perdonami Questa è l'ultima chance L'ultima volta Aspetta dieci secondi Pensaci E poi di Basta che mi dici Andrea Anzi di Andrea e basta Andrea perdonami Da amico e fratello Se non lo fai Giuseppe Dieci secondi Pensaci bene L'ultima possibilità Andrea posso dire una cosa No Dilla Noi due Se tu avevi continuato Il trash Ma anche le opere d'arte mobili Il Vibre per lei A quest'ora noi due Giuseppe Io ho speso 37.400 euro per te Per la canzone Monella Adesso basta che mi dici Andrea perdonami Non mi stai facendo parlare Perdonami Non mi stai facendo parlare Solo due secondi Allora Se io e te Se tu avevi continuato L'Andrea di Pre per lei E l'Andrea per il sociale A quest'ora Striscia la notizia Era di noi due Caro avvocato Signor 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 Simone Giuseppe Stia zitto adesso Stia zitto adesso Lei deve solo dire Di Pre perdonami Dieci secondi Via col tempo Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Giuseppe Fottiti 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 Per me non sei mai esistito Fottiti 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 Vergognati 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 Che infamico Striscia la notizia Era nostra Se volevi Ascolta Basta che dici Andrea Perdono E hai tutto quello che vuoi Fallo Hai sbagliato Da fratelli Io se sbagliavo Oltre lo dicevo Dillo E sei salvo Non lo dici Vai all'inferno Sto cazzo avvocato Ma che bravo Che bravo Il nostro signor Giuseppe Simone Striscia la notizia E la nostra Avvocato E Giuseppe Ascolta Io adesso Io adesso E Tutte le Le dipreiste Non devono più Contattare Giuseppe Simone Cioè che Simone È un infamone Avvocato Che c'è scritto Che c'è scritto Che c'è scritto Che c'è scritto Giuseppe Che c'è scritto qui Che c'è scritto Andrea ma la maglietta modella La stai vendendo la tua Non la metterò mai più Fino a quando Con che c'è scritto qui Andrea Andrea Vai a trovare la mamma Vai a trovare la tua mamma Porco Senti a me Vai a trovare la tua mamma Io saluto Cari Cari ragazzi Giuseppe Cos'è questo Giuseppe Giuseppe Puoi sentire una cosa Dai Allora Ok No 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 Un attimo Che ore sono Che ore sono Vediamo Sono le 2 Sono le 2 18 Di vedere il 12 febbraio Signore e signori Per me Il signor Simone Giuseppe Di Pugliese Di Lecce Di Leviano Per me Non è mai Esistito Non è mai Esistito Io saluto La mamma Di Andrea Di Prea Porco Dio Non dire Il nome Cioè E Si La cattivella Di Simone Perché non vendi La campagna Che hai Non vendi I campi Che hai E mi rimborsi 30.000 euro Che ho speso Perché lo sei venuto E chiedi Scusa A Walter Suray Giuseppe Giuseppe Allora Io dico questo E chiudo Ascolta Giuseppe Purtroppo Non si può Cancelare Il mito Però Per quanto Mi riguarda Rimani Un personaggio Oh Io Io Non ho mai Dato la mano A un Rez Se tu Non mi Chiedi scusa Per me Tu sei uno Scarafaggio Un ratto Sei un ratto Chiedimi Scusa Adesso Non voglio più Sentirlo Non voglio più Sentirlo Avete visto Che mostro Avete visto Che mostro Porca Troia Che mostro Comunque Sono contento Che La gente Ha visto Comunque che cazzo aiuta andre che cazzo stai sono felicissimo però figa non pensavo che Tony a sorpresa non mi aspettavo niente a sorpresa è arrivata è arrivata vabbè buon divertimento quando stai quando vieni adesso subito subito vengo lì arrivo subito quando vuoi noi sai qua siamo a disposizione di tutti ragazzi se c'è gente vuole lavorare col porno se c'è gente vuole lavorare col porno è con di pre perché di pre ma di pre ve lo dico io perché dopo viene qua spero che viene mi dobbiamo aprire un caffè arrivo subito ragazzi se volete lavorare col porno e con di pre mi scrivete su instagram toto texas e oggi dopo se viene di pre se viene a salutarmi a più un caffè arrivo subito arrivo subito arrivo subito stay there because I need help I need some good friends because I had a very incredible morning I arrived in bed at sleep I need help oh roto texas su instagram mi scrivete anche se siete donne attenzione perché c'è stato tanto lavoro per le ragazze quindi oh mi sono pochi da Andre scusami no veramente did you sleep I sleep I but I say I call Zuzu happy but I say Zuzu is every time in the house of Tony bo I arrive stay calm we find a solution ok se viene che c'hai che problema c'hai due schiaffi ti faccio le pia subito subito ti giuro è un sacco di tempo andre che ho non visto su uno mi fa piacere che incontrava un po' di persone proprio ci ha bisogno di passare ma arrivo 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 siamo qua tanto 10 anni fa ma poi non viene mai già lo so nel senso sui tre mesi arrivo subito arrivo va bene e siamo qui guarda che pitaccia a Praga come si chiude come si chiude come si chiude chiudi 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 per piacere chiudi Tony chiudi 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 un secondo non devo chiudere chiudi tu che cazzo non so io come si chiude ragazzi toto texas su instagram ancora ci siamo ecco qua va dato il mio instagram se siete donne e volete lavorare nel porno Tony Tony non puoi dirlo qua su instagram ma arrivo subito I arrive please please I arrive come here dopo tre anni give me the ten minus ten minus a call by 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 metro I arrive ok chiudi Tony chiudi Tony non so non so non so non so puoi chiudere andrei da qua ok ciao ciao ed ecco è il momento allora di andare subito da Isabel che è un'altra stupenda è un'altra stupenda hello isabel hello how are you ciao ciao andrea i'm good i'm good i'm good i'll be shoot today fucking nice scene with stacy cruz and now we just chill and i clean the aquarium and trim something inside you know just chill hobby time hobby time no magic very nice no 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 okay okay Grazie